Ferentino di Alex Stori, Enverro All'ora del pranzo a casa mia Certo vuoto, quando era ora di mangiare madre marrosina muoteva allo contorno e mi diceva Uè ecco, apparecchia tu di tavolino che sordida ancora non rueda alla scuola Strammetti li mandino in cima di tavolino perché padre sta azzicare e si deve sbrigare a mangiare Ho visto che arriva pure un'altra barossa che è a macinare la mola Mettici pure le cucchiere che oggi sono fatta la minestra che le fa soli Sbrigate che la barossa la sovista fresa e chi gli vorrà se non fa tempo manca mangiare la piatta di minestra che deve regala subito a terra per avviare la mola un'altra volta Ferentino 25 ottobre 2003